We discover the beautiful place, riscopriamo questo bellissimo posto Grazie al principe per il luogo e il supporto Grazie a tutti i miei amici, oggi vi parlo del pianeta Itz Nibiru dal lago di Lugano Anche adesso, in questo mese di ottobre 2020, l'influenza del pianeta Itz Nibiru causa questi eventi. Anche adesso, in questo mese di ottobre 2020, l'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru causa questi eventi. The increment of the earthquakes, volcanic eruptions, tsunami, tornado, flood, meteor shower and other events L'incremento di terremoti, eruzioni vulcaniche, onde anomale, tornado, alluvioni, cadute meteoriche e altri eventi This truth will soon be officially made, che questa realtà sia ufficializzata presto. Un abbraccio con le creature extraterrestri e intraterrestri per un nuovo mondo reale Gennaro Gelmini, 8 ottobre 2020, dal lago di Lugano Anche adesso, in questo momento. Un abbraccio con i pochi giorni, a che mi una volta è la nostra sattiva Anche» Un abbraccio alla prossima Ho potato fare unologo che ci sono e adesso, in questo modo non ho potato Lugano Grazie a tutti Grazie a tutti.